Faccio un soffio lungo. Fuori l'aria, fuori, 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 ancora, 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 resista, resista, ancora. Bravissimo, bravissimo, continui, bravo, bravo. Facciamo un po' di tutto, partendo dalle analisi del sangue, elettrocardiogramma, quindi l'attack del torace, l'ecocardiogramma. Facciamo i test di performance respiratoria, quindi spirometria, test del cammino, emogas analisi e poi le visite specialistiche con pneumologo, neurologo. Ospedale Gemelli di Roma, le 11 del mattino, in attesa nella sala d'aspetto una trentina di pazienti. In totale in cura in questo reparto ci sono più di 700 persone, tutti ex malati di Covid, che convivono ancora con gli strascichi della malattia. In questo corridoio che vedete segnato da questa fettuccia è il percorso di 30 metri dove viene fatto il test del cammino dei 6 metri. La frequenza cardiaca a fine test è un po' accelerata e risulta a 135, quindi adesso ci riposeremo un attimo. Le problematiche che noi abbiamo visto purtroppo sono ancora importanti. Circa l'80% di persone presenta ancora qualche sintomo persistente a distanza di 2-3 mesi. Il sintomo più comune è quello che si chiama in termini tecnici la fatica, cioè la stanchezza. Altri sintomi molto comuni che stiamo registrando sono la persistenza di dolore muscoli, quindi mialgie, il dolore toracico, l'affanno, la mancanza di fiato per piccoli sforzi. Qui abbiamo la nostra pneumologa, oggi c'è la dottoressa Entini. Messo quella che noi chiamiamo dispnea, che si presenta anche nei pazienti giovani, hanno difficoltà a salire delle rampe di scale anche i trentenni. Pensate che le persone che nel corso della malattia avevano avuto situazioni acute o anche paucisintomatici? Anche paucisintomatici. Il dato che ha colpito più di tutti i ricercatori e i medici del Gemelli è stato proprio questo. I sintomi post-Covid toccano anche chi ha contratto la malattia in forma quasi asintomatica, con patologie che a volte rischiano di cambiare per sempre la vita dei pazienti, come i problemi di coagulazione sanguigna che toccano una percentuale inattesa degli ex positivi al Covid. I nostri pazienti angiologici, quelli che sono interessati da tromboembolismo venoso, vengono seguiti a vita, quindi è una patologia importante ed è una caratteristica delle infezioni da Covid, per cui una delle grosse terapie in parte misconosciute è proprio l'anticoagulante. L'altro dato che ricorre spessissimo è legato invece ai problemi gastrointestinali. I pazienti mi riferiscono in modo veramente molto frequente, pirosi, quindi sostanzialmente una condizione di bruciore retrosternale, soprattutto in realtà le dico nei pazienti under 50. A distanza di quanto tempo dalla scoperta della malattia? A distanza anche di 3-4 mesi, quindi è qualcosa che rimane molto più di tutto il resto. E c'è una categoria che finora era considerata protetta dalle conseguenze del virus, quella dei bambini. Al Gemelli, il primo studio scientifico sul post-Covid che li riguarda, ha preso in esame un gruppo di 130 persone, scoprendo che anche a distanza di mesi dall'infezione, in un'alta percentuale di casi, i sintomi, anche in età pediatrica, continuano. Congiuntivite, dalla cefalea, dolore addominali, la diarrea, dolore toracico, senso di costrizione alla respirazione, che possono persistere dopo un quadro sintomatico o possono comparire anche in soggetti che hanno contratto l'infezione senza avere in fase acuta alcun sintomo. Questo gruppo cui lei faceva accenno di circa 130 bambini, oltre la metà, poco oltre la metà, hanno avuto un'infezione asintomatica. Fronteggiare l'ondata dei pazienti con sintomi da post-Covid sarà di fatto la sfida dei prossimi mesi. Reparti come questo, in cui si fonde la ricerca scientifica con la cura, sono al momento l'unico appiglio per chi è ancora sintomatico. Molti di questi medici lavorano su base volontaria, oltre il loro orario di lavoro, ma la richiesta di pazienti di accedere al reparto supera enormemente la capacità di accoglierli. Al momento l'unico canale per essere preso in carico è una mail a cui ci scrivono costantemente da tutta Italia e abbiamo più di 700 mail in attesa di essere evase per poter dare una risposta. Purtroppo sopra una certa soglia, con questa struttura e con questo organico, non possiamo andare. In cura nel reparto post-Covid del Giamelli di Roma c'è anche Marta Esperti, 32 anni, che si trascina i sintomi ormai da 11 mesi. Camminare, fare qualunque tipo di attività, mi senti che già è un po' di fiato colto, anche per pochissimi passi ci sta. Fino all'anno scorso Marta viveva in Francia, dove insegna scienze politiche in due università. Si ammala a marzo, a Parigi, quando la città è nel pieno della prima ondata. Era il 12 marzo che ho fatto questa visita, in cui la diagnosi di Covid è stata fatta sulla base dei sintomi clinici, senza una diagnosi tramite tampone, appunto, perché... Era l'indicazione in quel momento, non bisognava sprecarli. In quel momento non vi erano abbastanza tamponi. Dopo mesi di febbre e dolori, chiede al Consolato Italiano di aiutarla a rientrare in Italia, ma una volta a casa la sua condizione si complica ancora. C'erano dei valori nel sangue che indicavano una possibile infiammazione del cuore. La tachicardia, questo battito del cuore accelerato, è rimasto. È rimasto e per cui si sono ritenuti opportuni degli esami specialistici più approfonditi che devo ancora fare. Nel frattempo, però, prendo un farmaco per il cuore. Ed in attesa di capire le cure giuste per una malattia di cui si conosce ancora pochissimo, Marta, in questi mesi, si è messa a raccogliere le storie di migliaia di pazienti come lei, diventando una delle promotrici di un'iniziativa internazionale che punta al riconoscimento della malattia da Long Covid. È attraverso l'Organizzazione Mondiale per la Sanità che abbiamo lavorato dal 21 agosto 2020, sempre per poter definire cosa è Long Covid, per poter aggiornare le sue guidelines. L'obiettivo è quello di far entrare le guidelines, le linee guida, in una proposta di legge che riconosca legalmente la malattia, come sta avvenendo in altri paesi europei, consentendo così cure gratuite per i malati e garantendoli anche sul piano lavorativo per le tante assenze che una malattia cronica comporta. Parliamo di decine di migliaia di pazienti in tutta Italia. La maggiore concentrazione è nell'area travolta dalla prima ondata, la Lombardia. Su questi pazienti lo studio più aggiornato è dell'ospedale di Bergamo, dove stando ai dati, un paziente su due ha ancora sintomi dopo tre mesi e mezzo. C'è una quota di persone che potrebbe aver bisogno di più tempo, forse di molto tempo, e qualcuno potrebbe avere una condizione poi di lunga durata, cronica. Quindi questo è ancora da capire. Lo studio dell'ospedale di Bergamo al momento prende in esame solo i pazienti ospedalizzati. Quelli che sono stati curati a casa per adesso devono rivolgersi altrove. Simona, dopo quasi un anno dai primi sintomi, ancora non è riuscita a vincere la malattia. Io ho 38 anni, non ne ho tanta, quindi sono andata sempre privatamente. L'ultima visita l'ho fatta il mese scorso e adesso mi ha dato da fare un test del cammino, che so che fanno a questi malati di long covid. Ha un'idea di quanto ha speso finora ancora la medica? Sinceramente ho perso un po' il conto, però parecchio. Ho fatto ecografie, pagamento, ho fatto lastre, ho fatto risonanze, ho fatto tanto. Aspetti quel tampone negativo come se fosse la manna dal cielo, ma purtroppo non finisce. Mi sono negativizzata nel giro di 4-5 giorni, io ho fatto un declino pauroso. Ho cominciato con dei problemi intestinali molto forti, perdita di capelli, dei dolori lancinanti. In tutte le tacche che mi hanno fatto a me risultava, fino ad agosto, un polmone che non ventilava. Sono dieci mesi che ancora non sono riuscita a rientrare al lavoro. Laura è un'operatrice sociosanitaria in una residenza per anziani. Il suo lavoro è a strettissimo contatto con gli ospiti. Come farà adesso col suo lavoro? Non lo so, è un'incognita. Purtroppo è un'incognita. Io fino a settembre sono stata in infortunio, mi ha riconosciuto l'infortunio, ma da settembre io sono in malattia. E quanto posso stare ancora in malattia? Lavori una settimana, magari due, ce la fai e poi ti devi fermare perché proprio già arrivi a sera, già il secondo giorno di lavoro, non ce la fai proprio fisicamente. Lei che lavoro fa? Io faccio l'operaia, lavoro in un'azienda che produce cosmetici, faccio un lavoro molto leggero, non pesante. Eppure mi costa molta fatica. Non c'è un riconoscimento di questa malattia, quindi non c'è una prescrizione. Quindi prendi giorni di malattia. Quanti giorni di malattia hai fatto finora? Nel 2020 ho superato i 180 giorni. Vuol dire che quando arrivi al limite massimo di assenze per malattia, l'azienda ti può licenziare. Sono previsti licenziamenti nella tua azienda? Purtroppo sì.